Buonasera a tutti, grazie per partecipare anche a questo ultimo, quarto e ultimo incontro dei seminari Cisco sui risorgimento da ritrovare. Prima di dare subito la parola al nostro chairman di oggi, Roberto Balzani, volevo solamente appunto ricordare come in questi incontri abbiamo avuto la conferma un po' dello spirito che ci aveva spinto a fare queste occasioni di dialogo. Cioè abbiamo visto come effettivamente il tema è aperto, il cantiere è aperto sulla ricerca di una nuova identità degli studi sul risorgimento nelle ricostruzioni di lungo periodo, sia in relazione ai percorsi storiografici maturati che sono stati oggetto del primo incontro, sia tenendo presente le potenzialità delle nuove piste della ricerca, sia in relazione al dibattito pubblico, che è stato il tema poi dell'ultimo incontro che ci ha preceduto e che ci ha portato in maniera quasi naturale a quello di oggi, l'impatto che ha il risorgimento nella società attuale. E in particolare tenendo presente due questioni, gli spazi da recuperare, gli spazi archivistici, museali, ma anche gli spazi associativi. Ecco, questi due poli un po' sono il tema del nostro incontro. Direi dunque di iniziare la nostra riflessione comune dando la parola a Roberto. Grazie a tutti per la vostra presenza. Grazie e anch'io mi associo al ringraziamento prima di tutto alla Cisco e a Marco che è stato il regista di questi incontri e alla società naturalmente che li ha resi possibile e naturalmente agli amici che hanno partecipato nel corso di questi quattro incontri e a quelli che oggi, come vedremo, hanno risposto positivamente all'offerta di dibattito che abbiamo fatto loro. L'argomento in effetti è un argomento delicato. Io cercherò di fare una breve introduzione partendo dal contemporaneo più stretto e poi naturalmente cercando di restituire e poi naturalmente passando la parola ai colleghi una diacronia un po' più ampia. Sono rimasto molto colpito da una delle ultime pagine del libro che Massimo Baioni ha scritto e pubblicato l'anno scorso intitolato Vedere per credere il racconto museale dell'Italia Unita, un libro che raccoglie molte delle sue riflessioni sulla genesi dei musei del risorgimento in Italia, in particolare nel periodo liberale, nel periodo fascista, ma che però ha una lunga digressione sulla parte più contemporanea. Dicevo, sono rimasto molto colpito da una delle ultime pagine nelle quali Massimo fa la seguente riflessione, alla quale non avevo pensato e che però mi pare molto interessante. Egli dice, beh in fondo l'Italia ha vissuto qualcosa di simile alle crisi di identità che hanno vissuto i paesi dell'est e il centro-est Europa con la crisi del 1989, qualcosa di simile è avvenuto con la crisi di cui quest'anno ricorre il trentesimo, cioè con la crisi della Prima Repubblica nel 1992, cioè un vero e proprio trapasso di rappresentazione della memoria storica, anche recente e non solo recente. Quindi un trauma tutto sommato simile anche se determinato non da un fenomeno esterno, diciamo internazionale, ma da un processo di crisi interna del sistema politico. Ebbene buona parte dei partiti della Prima Repubblica erano stati alla base anche della ricostruzione della memoria collettiva e spesso essi stessi veicolo di questa memoria durante gli anni che hanno seguito la Seconda Guerra Mondiale e quindi sono stati all'origine della ricostruzione dei musei, del risorgimento, della loro rivitalizzazione. Poi negli anni Sessanta è stata la stagione dei musei della Resistenza, degli istituti storici e anche lì diciamo questo evento comincia a essere significativo, dice giustamente Massimo Baioni, dalla metà degli anni Sessanta con la presidenza Saragat, è lì che si consuma questa storicizzazione della memoria della Resistenza. Tutto questo risorgimento e Resistenza dopo il 1992 in realtà nel nostro paese comincia ad avere, diciamo a mostrare degli scricchioli, scricchioli nel senso che il rifiuto di una parte dell'opinione pubblica e anche delle nuove forme partito che si costituiscono in Italia, il rifiuto, la presa di distanze da quello che era stato il sistema precedente genera anche fatalmente, potremmo dire così o non fatalmente, comunque genera un rifiuto anche di storia, del modo con cui era stata narrata la storia durante la cosiddetta Prima Repubblica e il risorgimento risulta colpito, anche se non c'entra niente ovviamente con la crisi dei partiti della Prima Repubblica, ma direttamente ovviamente, ma rimane una delle vittime di questo processo. Per molti anni è così, finché, questo non lo dice Massimo, finché il risorgimento non viene assunto da una istituzione della Repubblica che è la Presidenza, come un elemento di recupero della, potremmo dire così, dell'identità nazionale. Il Presidente della Repubblica, che nel frattempo cambia il suo ruolo nella storia d'Italia, diciamo dagli anni 90 sicuramente, diventa, attraverso la memoria del risorgimento e l'investimento su questa memoria collettiva, diventa, potremmo dire così, il garante, questo funziona, comincia già con Scalfaro, poi dopo con Ciampi e via, così tutti gli altri Presidenti fino ad oggi hanno interpretato questo ruolo, torna a essere in qualche modo il garante di questa storia comune e il risorgimento conosce una sua, potremmo dire così, re-istituzionalizzazione, neo-istituzionalizzazione, il che non significa che ritorni nella società italiana, attenzione, ritorna nelle istituzioni della Repubblica, legittimato, aveva perso questa legittimazione per qualche anno, ritorna ad essere legittimato, ma diciamo con legato a questa figura. Questo fatto mi pare particolarmente verificato con la Presidenza di Ciampi, in particolare, che restituisce anche l'agibilità al Vittoriano come sede simbolica del risorgimento italiano, un monumento praticamente chiuso da lontano, 1969, perché oggetto di un attentato, il giorno proprio di Piazza Fontana, il 12 dicembre del 1969, rimane sottratto alla visita, se non naturalmente per le persone che andavano all'istituto, per moltissimi anni. E dall'altra parte c'è da dire anche durante il centocinquantesimo con la figura di Napolitano, che in qualche modo, soprattutto fra la fine del 2010 e la metà del 2011, diciamo seconda metà dell'anno 2010, prima metà dell'anno 2011, poi dirò perché, riesce a essere un po' quello che cuce le manifestazioni per il centocinquantesimo nel Paese. lo fa meglio di qualunque altra istituzione dello Stato, sicuramente meglio di quanto riesca a fare in quel periodo il governo, e diventa un po' il simbolo delle stesse manifestazioni. Manifestazioni che tuttavia si interrompono bruscamente alla metà del 2011, precisamente in estate, con la grande crisi del Paese, che comincia, e con il cambio di governo, la chiamata del professor Monti alla guida del governo, per la crisi economica, che mette la sordina a quelle che erano state manifestazioni fino a quel punto abbastanza partecipate e anche, come dire, condivise a livello dalla stampa e anche dall'opinione pubblica. Quindi anche l'operazione di Napolitano è un'operazione che conosce successi, luci e ombre, a un certo punto, per ragioni che sono intrinseche a un'ulteriore fase delicatissima della crisi del Paese, ci va dietro anche, viene coinvolto anche il centocinquantesimo del risorgimento, in qualche modo, dell'unità d'Italia, finisce in questo cono d'ombra dal quale poi non si riprende più, nel senso che Napolitano chiude il centocinquantesimo nei primi mesi del 2012 con una manifestazione finale a Roma, ma di fatto, diciamo, al di fuori ormai di un interesse reale dell'opinione pubblica che è distratta da ben altri temi in quel momento. Allora, parto da queste riflessioni che si fermano a un decennio fa, sostanzialmente, per riflettere su che cosa? Prima di tutto, sul fatto che, diciamo, il risorgimento rimane ancora un elemento di legittimazione per almeno una parte delle istituzioni italiane. Per quanto, diciamo, non magari diffusa questa percezione a livello collettivo, per quanto sia possa essere eletta da una parte della società italiana e non da tutti, e non da tutta, tuttavia, questo dato mi sembra molto chiaro. Cioè, fino agli anni Ottanta gli stessi partiti e i ruoli istituzionali e politici dei partiti in qualche modo si identificavano in questa duplice natura, risorgimento, resistenza, dopo questa fase, diciamo, i partiti scompaiono dall'orizzonte e rimane l'istituzione presidenza a recuperare questo legame. L'altra questione è naturalmente che l'istituzionalizzazione della memoria risorgimentale fatta dalla presidenza naturalmente presenta anche alcuni problemi, nel senso che la diffusione a livello locale poi di quello che potremmo chiamare la manutenzione della memoria risorgimentale è molto più debole di quanto si è avvenuto nel periodo precedente. Il caso emblematico dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano un po' dimostra fino a che diciamo c'era anche un sistema politico che supportava la cultura risorgimentale in una maniera o nell'altra diciamo queste radici sono state in qualche modo irrorate in una fase successiva anche per l'Istituto nonostante la copertura presidenziale questo legame non è stato più così automatico con la società non è stato più così automatico e dall'altra parte nello stesso tempo e questo è un altro dato che non a caso coincide proprio con i primi anni 90 cioè con questa specie di frattura nella memoria storica che si determina con la crisi politica della Repubblica nascono viceversa e si rafforzano gli antirisorgimenti italiani cioè quelle forme di contromemoria locale della unitaria contro la memoria unitaria che in alcune aree del paese in forme più o meno strutturate prendono corpo questo non avviene solo nel sud dove l'aspetto neoborbonico poi è il più diciamo è il più resistente anche nel lungo periodo in una certa fase e anche nel nord in una certa fase della vicenda italiana negli anni 90 e anche in Toscana e anche in alcune aree dei Ducati e ci sono degli ex Ducati naturalmente emiliani ci sono manifestazioni culturali che non si erano mai mostrate in questa forma nel periodo precedente e che viceversa innervano delle rappresentazioni sociali rappresentazioni sociali di una antistoria di un bisogno di controstoria una specie di contromemoria che che prende corpo di fronte alla quale diciamo il da un lato il i governi che si succedono non prendono praticamente posizione nel senso che non ci sono prese di posizioni ufficiali di ministri della pubblica istruzione di presidenti del consiglio nulla di tutto questo nei confronti della salvaguardia di una memoria collettiva viene tutto lasciato alla libera come dire manifestazione della società e di fatto l'unico vettore che continua a comunicare in maniera tradizionale rimane quello scolastico cioè della comunicazione dei libri dei manuali di storia ad uso delle scuole medie e delle scuole superiori che diciamo rimangono i vettori di una memoria tradizionale a volte anche polverosa cioè di tipo di taglio talvolta nazionalistico vecchio stile ecco perché i manuali su questa parte risorgimentale diciamo sono quelli che hanno che sono cambiati meno nel corso di questi anni che hanno probabilmente integrato meno anche i cambiamenti strutturali della ricerca storica e forse questo è anche uno degli elementi per i quali poi si è anche determinata una reazione di questo tipo nella società italiana quindi il quadro secondo me è molto vario e molto interessante perché grazie al risorgimento è possibile leggere in filigrana delle trasformazioni da un lato che sono in atto ancora nella società politica nelle istituzioni non sappiamo se in futuro la presidenza della repubblica continuerà a avere questa funzione oppure no e dall'altra parte ovviamente anche nella società italiana perché non c'è dubbio che gli antirisorgimenti che sono presenti a livello di senso comune in molte parti d'Italia in alcune parti d'Italia costituiscono delle chiavi di lettura anch'esse di disagi di percezioni di organizzazioni anche di tipo culturale a volte anche notabilare di fronte alle quali diciamo gli storici del risorgimento da un lato credo debbano essere portati ad usare uno sguardo ovviamente analitico sono fenomeni che si producono e per gli storici sono interessanti di per sé naturalmente questo ha anche dei riflessi di tipo disciplinare perché sull'onda di questi processi non dimentichiamolo poi la storia del risorgimento è in parte scomparsa dagli insediamenti accademici del nostro paese non solo la storia del risorgimento in quanto tale parlo anche della storia dell'ottocento come rivoluzioni nazionali della primo ottocento europeo sostanzialmente la parola risorgimento ormai è utilizzata in pochissimi corsi esplicitamente nel nostro paese e in pochissime università italiane quindi diciamo c'è anche questo obiettivo fenomeno di un allentamento di una riflessione critica dentro il passaggio di generazione di tipo accademico anche se la ricerca è viva come sappiamo viva e vivace perché i giovani in realtà ce ne sono di giovani che studiano il risorgimento in Italia ce ne sono oggi forse più di alcuni anni fa e la comunità degli storici che si occupa di risorgimento è attiva a livello anche internazionale e direi oggi molto più in salute che in altri tempi e quindi devo dire che questo parzialmente contrasta con la percezione che a livello viceversa sociale il risorgimento di cui il risorgimento gote quindi non mi volevo dilungare oltre e anzi mi scuso se questa introduzione è stata più troppo contemporanea per un incontro di riflessione fra storici ma naturalmente ha anche una piccola componente presente una piccola componente di provocazione intellettuale che serve per animare anche la riflessione comune e il dibattito ecco quindi l'ho fatto anche per questo e mi scuserete se sono andato oltre i termini cronologici che uno storico dovrebbe rispettare detto ciò io passerei la parola ringraziandolo a Thomas a Thomas Kroll della nostro collega che tutti conosciamo e stimiamo della Friedrich Schiller Universität di Iena al quale naturalmente cedo volentieri la parola grazie ho l'impressione che non si senta allora di nuovo ringrazio Andrea Ciampani e Roberto Balzani per l'invito di intervenire in questo seminario il tema della presenza degli studi risorgimentali negli spazi museali e del loro ruolo nella rete associativa mi sembra molto interessante anche se abbastanza difficile specialmente se si parla come io farò in poi dal punto di vista della ricerca tedesca sul risorgimento vorrei fare solamente due osservazioni e forse tento alla fine una breve conclusione comincio con la domanda abbastanza semplice come è organizzato la ricerca storica sul risorgimento in Germania mi sembra un punto di partenza ovviamente ci sono i singoli ricercatori e ricercatrici che lavorano sul tema spesso in dialogo con i colleghi in Italia e come molti campi Roberto Balzani ha già accenato al fatto che la ricerca è ormai internazionale e questo mi sembra una tendenza della storiografia generale dagli anni 90 in poi è certamente anche un prodotto di un effetto della europeizzazione e della globalizzazione come processi politici e sociali nel contesto nazionale tedesco diciamo ci sono due associazioni storiche sorelle che si occupano di storia dell'ottocento del lungo ottocento c'è il gruppo di studio per la storia contemporanea italiana fondata ormai qualche decennio fa e anche il fratello minore molto più piccolo gruppo dei specialisti della storia del risorgimento comunque il gruppo estero dell'istituto di storia del risorgimento italiano di Roma siamo in fondo una dozzina di membri che non sembra molto ma siamo attivi insomma organizziamo presentazioni di libri come nell'ultima occasione il libro il nuovo libro di Gabriele Clemens una storia generale del risorgimento che sono previsti nei anni e mesi da venire seminari workshop anche in cooperazione con l'istituto centrale a Roma e con colleghi italiani e questo è il punto anche di ringraziare Andrea Ciampani per il sostegno dei gruppi esteri tempi nei ultimi anni il nostro gruppo comunque è attivo ma bisogna ammettere subito che il risorgimento in Germania occupa solo un posto marginale nella storiografia la ricezione la discussione dell'attenzione alle controverse dei risorgimentisti italiani e internazionali è abbastanza limitata nella storiografia tedesca ancora più ristretta è la diffusione delle conoscenze storiche sul risorgimento nel grande pubblico dei lettori o nella società tedesca in generale basta uno sguardo rapido alle riviste popolari di storia come Damals una volta in cui prevale l'interesse per tutt'altro che il risorgimento il novecento le guerre prima seconda guerra mondiale la Prustia Federico II l'impero guilmino allora monarchi piuttosto di monarchia forse qualche tema della storia religiosa il papato e temi esotiche ma il risorgimento è quasi assente un fatto ancora più importante mi sembra che il risorgimento non c'è nemmeno nei manuali scolastici dei licei che hanno tuttora un taglio storiografico nazionale si trattano rapidamente della storia francese la rivoluzione francese dell'industrializzazione britannica si tocca il colonialismo ma per il risorgimento basta qualche riga che accenna alle somiglianze e analogie strutturali dei due processi di unificazione nazionale la gran parte di studenti all'università è un mio esperienza personale conosce il nome di Garibaldi forse quello di Mazzini ma direi che di solito Giacavua è uno sconosciuto ma l'ho già detto è un'esperienza solo personale questo è un po' lo stato di cose in Germania e non vorrei parlo solo di assenza ma il risorgimento nella storiografia non è molto presente e così si può domandare come come entra nella rete delle associazioni nei musei è davvero è molto difficile ma io non credo che in questo stato delle cose si esprima soltanto un desinteresse del risorgimento di principio non dai studenti e nemmeno del grande pubblico decisivo a mio avviso è una diminuita presenza dell'ottocento tedesco e europeo generale nella storiografia in Germania e mi sembra anche in Italia come ha già detto anche Roberto Balzani la ragione per questo stato mi sembra si debba cercare nelle congiunture anche nelle mode della ricerca storica nella sua struttura e organizzazione e anche nella logica degli anniversari e celebrazioni pubbliche in relazione all'ultima la storiografia accademica professionale invece di agire di mettere temi sull'agenda spesso reagisce anticipa presunti interessi politico-culturali del pubblico o della politica invece di portare avanti e mettere in gioco i grandi temi dell'ottocento i processi di modernizzazione le rivoluzioni e così via ma l'ottocento non è neanche molto non è molto presente neanche nei musei nelle grandi mostre nelle grandi mostre questo fatto è certamente non da ricondurre a una mancanza di musei in Germania ho controllato le cifre abbiamo all'incirca 7000 musei dei quali 1000 si potrebbe definire storici nel senso stretto inoltre si contano 3000 musei locali etnologici folcloristici diciamo di tipo cittadino municipale anche le mostre sono numerevoli organizzate a livello nazionale o federale molto importanti in questo contesto sono le mostre federali il cosiddetto landesausstellung con milioni di visitatori ma l'ottocento non riesce a profittare dell'afflusso dei visitatori per citare un filosofo tedesco nel secolo certamente non è oggetto dei pellegrinaggi del moderno pubblico di massa di regola le mostre si occupano di temi della storia antica medievale forse per l'ora sacrale esotica è un certo gusto di avventura è anche importante per il novecento tante mostre di storia del nazionalsocialismo anche della storia dell'unificazione tedesca della storia dopo il 45 con questo spesso di stampo politico educativo ma ci sono ci sono state anche eccezioni poche do solo qualche indicazione la prima mostra importante per l'ottocento è stato quello che si riferisce a Karl Marx il suo dodicesimo anniversario nel 2018 c'è stata una grande mostra federale a Treviri con io direi un misto di divulgazione storica ad alto livello scientifico e di commercializzazione turistica mi sembra una cosa abbastanza tipica per questo genere di mostre poi c'è stata anche a Treviri una nuova versione della mostra permanente nella casa natale di Marx organizzata dalla fondazione Fredericia e Vardvigino al partito socialdemocratico e questo mi sembra anche tipico le associazioni i partiti sono le istituzioni che che portano avanti istituzioni mostre del genere tutto questo è stato accompagnato dalla pubblicazione di libri su Marx biografie di grande successo questo ho fatto non si spiega soltanto a mezzo del fascino di Marx come persona anche per l'interesse per il problema del avvento e della trasformazione del capitalismo l'altra eccezione e questo mi sembra più importante anche in paragone al risorgimento e la celebrazione del 1870 71 allora la formazione dell'impero tedesco e la guerra franco-prussiana per quanto sappia io la storia italiana era completamente assente il concilio il primo concilio vaticano e anche la breccia di proterapia e così via ma ci sono state due iniziative interessanti insomma prima è una mostra con il titolo la fondazione del Reich a Versailles organizzato dalla fondazione Otto von Bismarck una fondazione che di fatto è una combinazione di museo e di istituto di ricerca la domanda cruciale è stata qual'era qual'è il ruolo dell'impero tedesco per la storia tedesca la seconda eccezio mostra che si riferisce al movimento nazionale in Germania negli ultimi anni 2020 è stato organizzato dal museo di storia militare adresa comunque il museo delle forze a Marti in Germania con il titolo l'ho tradotto la guerra fa la nazione il problema che si è posto con questa mostra è quella del ruolo della guerra nel processo di formazione dello Stato nazionale anche del ruolo dell'esperienza delle guerre per i movimenti nazionali allora non è una mostra apologetica mette in evidenza tutta l'ambivalenza del movimento nazionale e dell'impero e evita ogni identificazione della nazione con la guerra ma si riannoda anche ad altre iniziative specialmente sull'età napoleonica una mostra con il titolo sanguinoso romanticismo che si occupa del movimento nazionale intorno alla battaglia di Lipsia del 1813 io devo ammettere non ho visitato le mostre di persona così non vorrei entrare nel dettaglio ma vorrei con questo concludo vorrei richiamare due problemi di ordine forse generale che mi sembrano rilevanti il primo punto è diciamo la domanda della public history qual è la relazione fra ricerca la relazione fra ricerca storica e la presentazione pubblica della storia nei diversi modi che ci sono che ci sono allora a me sembra interessante chi definisce quali temi sono da discutere e anche da esporre e la ricerca e la politica sono i musei i media il pubblico non so non sono sicuro metto un punto interrogativo ma ho l'impressione che si è cambiato molto cambiata molto la situazione nelle celebrazioni della rivoluzione del 48 e 1998 almeno in Germania è stata la ricerca storica mettere i temi sull'agenda vale anche per la grande mostra sul vecchio Reich e anche sulle diverse mostre anche regionali con il tema delle riforme napoleoniche e del loro effetto in Germania a mio avviso è cambiato molto forse a causa della digitalizzazione forse della rivoluzione dei media forse anche si potrebbe aggiungere la rilevanza della logica dei modi di finanziamento della ricerca e anche il bisogno dell'autolegittimazione della scienza storica tutto questo detto con riferimento alle molto opportunità e anche ai pericoli alla fine vorrei tornare al problema della presenza del risorgimento e della ricerca sul risorgimento in Germania visto che non c'è una specie di interesse naturale per il risorgimento bisogna cercare quasi alleati le fondazioni gli istituti di ricerca musei i colleghi italiani un modo di suscitare l'interesse potrebbe essere rafforzare la comparazione italo-tedesca con tal approccio si potrebbe essere potrebbe essere utile ovviamente per una mostra sulla guerra e del suo impatto sulla formazione dello Stato nazionale questo mi sembra evidente bisogna anche presentare l'esorgimento al grande pubblico e più anche nelle università nei corsi universitario il libro di Gabriele Clemens è stato certamente un primo passo in avanti con questo e spero mi scusate il patos finale mi sembra che sia definito anche il compito del piccolo gruppo del gruppetto di studio dei risorgimentisti tedeschi bisogna fare ricerca concreta critica e analitica questo mi sembra il punto di patenza bisogna trovare alleati in Germania e in Italia per essere in grado di diffondere conoscenze storiche sul risorgimento e forse tutto questo potrebbe è un desiderio forse lontano contribuire ad una europeizzazione della memoria del risorgimento vi ringrazio per l'attenzione molte grazie per queste per questa riflessione anche per gli spunti quello che dicevi per esempio sui musei io vorrei ricordare che non so se sia un fenomeno europeo ma nel caso italiano noi oggi abbiamo circa 5.000 musei il 60% di questi musei sulla base dei dati dell'Istat del 2020 è nato dopo il 1990 quindi non sono musei diciamo così di tradizione e sono musei che spesso hanno a che fare con quelle identità locali di cui si scala locale di cui parlava parlava prima Thomas il 60% dei musei italiani sono di proprietà comunale o pubblica naturalmente di proprietà comunale o locale i musei dello Stato sono numericamente pochi anche se sono naturalmente spesso ovviamente i più ricchi di patrimonio argomento anche questo molto affascinante che ci riporta alla questione di quella famosa crisi degli anni 90 il paradosso sembra che il patrimonio abbia cercato delle altre strade in qualche modo rispetto a quelle tradizionali ma adesso vorrei passare la parola grazie ancora a Thomas Kroll a Stefano Razzi che è un insegnante e soprattutto componente dell'Istituto di Storia del Risorgimento Italiano da tempo immemorabile potremmo dire nel senso che ha fatto parte di questa vicenda anche dei comitati locali con un'esperienza solidissima non solo di studioso ma anche appunto di trade union fra quelle che sono le comunità locali quindi il risorgimento in periferia oggi dall'altra parte e il mondo degli studi quindi Stefano grazie per aver partecipato e a te la parola grazie Roberto e intanto buon pomeriggio a tutti ecco io pensavo proprio di affrontare un tema odierno del risorgimento e società delimitandolo entro i confini della realtà associativa che si esprime appunto attraverso i comitati dell'Istituto per la Storia del Risorgimento rispetto a molti altri istituti storici presenti in Italia l'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano che ha sede al Vittoriano ha infatti una peculiarità cioè ha una forte base associativa che si esprime attraverso 78 comitati presenti dal nord e dal sud della penisola e tralascio naturalmente i gruppi esteri dell'Istituto quindi parliamo di circa 2000 iscritti erano 3000 dieci anni fa probabilmente per l'effetto del risveglio generato dell'ecebrizzazione del 105 quantenario dell'Unità d'Italia di cui accennava prima Roberto Balzani di sicuro i direttori dei comitati provinciali ora così sono definiti un tempo erano presidenti sono quelli che comunque favoriscono oltre a un'attività culturale anche le iscrizioni cioè si prendono cura dei regolari versamenti dei soci dico questo perché poi queste migliaia di iscrizioni diceva poc'anzi come diciamo obbligo impegno sono anche una voce economica importante come sostegno alla rassegna storica del risorgimento e quindi tutti i comitati sono tenuti al versamento di questi due terzi quindi di 25 euro per ciascuno iscritto 20 vanno alla sede centrale e si capisce di conseguenza che i comitati godono anche di risorse di risorse limitatissime come avviene ecco l'iscrizione ai comitati io ricordo questo quesito si era rivolto da noi ex presidenti al tempo della emilia morelli che è stata l'uno presidente dell'istituto durante una riunione della consulta al vittoriano chiedevamo ecco ma questi soci devono essere accademici laureati oppure possono iscriversi anche tutti coloro che sono appassionati amanti di storia risorgimentale in maniera molto schietta Emilia Morelli ricordo rispose se la nostra esistenza associativa dovesse dipendere dalla presenza di accademici o laureanti diceva campo a cavallo che l'erba cresce questo per dire che cosa che il risorgimento appartiene a tutti quindi l'insegna studiosa mai e poi mai avrebbe rinunciato al supporto fornito da questa ampia base associativa che dicevo che costituiva un supporto direi sicuro un riferimento una risorsa su cui poter contare tant'è che alla guida di questi comitati poi noi potevamo vedere anche persone rispettabilissime che non provenivano dal mondo universitario o da quello della scuola secondaria superiore ma quello che a me preme dire in questo intervento che guardando naturalmente con un certo ottimismo il futuro di questi comitati che se c'è oggi una situazione diversa e sappiamo con un nuovo statuto un nuovo direttivo sarebbe appunto opportuno assieme al nuovo direttivo della sede centrale tornare a confrontarsi al vittoriano e a dialogare insieme per programmare e condividere anche un comune cammino questo è almeno sento anche gli altri colleghi direttori di comitati che conosco personalmente da anni e che vorrebbero volentieri tornare a parlare parte attiva all'istituto a Roma io francamente non so poi i motivi del perché non sia stata indetta una riunione non credo che siano insorti nel frattempo motivi economici che eventualmente si potevano o si potrebbero ovviare attraverso le riunioni come questa da condurre da remoto come si dice in era covid è anche vero che il direttivo comunque ha una sua autonomia ha una totale autonomia io ricordo qui leggo dallo statuto che tutti quanti voi potete vedere perché è online l'eventuale presenza dei membri dei comitati territoriali non è computata ai fini del raggiungimento di un quorum per la validità delle deliberazioni da parte del consiglio direttivo i membri del direttivi partecipano senza diritto di voto ecco io mi soffermo su questo questo passo dove dice eventuale presenza e partecipazione dei membri dei comitati territoriali che essendo senza diritto di voto in questo senso potrebbero anche non avere nessun nessun ruolo comunque non sono indispensabili per deliberare quindi a distanza di tempo direi ecco questi comitati provinciali che un tempo si riunivano oggi sono un po' come le monade di Leibniz indipendenti sì però privi di un luogo di confronto collettivo con la sede centrale e con le attività degli altri comitati chiariamoci io non dico che non ci siano state nel frattempo collaborazioni iniziative anche comuni tra nuovo direttivo e comitati alcuni comitati sono stati contattati per eventi eccetera ma sempre singolarmente o su proposte individuali invece è opportuno forse riattivare questo direi rapporto diretto con tutti i comitati nella sede centrale e d'altra parte non è neanche pensabile che questi comitati si autoconvichino da soli fuori dal vittoriano non so cosa una sorta di sala della palla a corda per votare comunque membri che poi eventualmente potrebbero o non avrebbero ruoli e come recita l'articolo 8 al punto 7 dello statuto e questo può creare un allontanamento ecco tra i comitati periferici e la sede centrale che potrebbe anche avere riflessi io ricordo che le organizzazioni dei congressi nazionali in passato avevano una tradizione importante i direttori avanzavano le candidature ex presidenti avanzavano le candidature di quelle loro città che si proponevano come sedi del convegno sociale si prodigavano per trovare anche finanziamenti organizzavano congressi con modalità itineranti a rotazione dal nord al centro al sud dell'Italia proprio pensati nel pieno rispetto dello spirito unitario risorgimentale che secondo me ben rappresentano i comitati e questo mi sembra un aspetto fondamentale che andrebbe recuperato altro aspetto sempre rifacendomi al la durata triunale è ragionevole ci deve essere un ricambio generazionale dei direttori ricordo anche il professor Umberto Lebra aveva lanciato vari appelli apparsi anche nella rassegna per cercare di renovare il comitato di Torino che lui rappresentava e tutte le volte questi appelli cadevano nel nulla tant'è che fino all'ultimo il professor Lebra rimase responsabile del comitato di Torino e questa difficoltà nel trovare nel trovare figure che così pronte ad impegnarsi ha anche una spiegazione per un motivo molto semplice perché perché innanzitutto non c'è nulla da guadagnare quindi quindi volendo iniziare a realizzare iniziative spesso c'è anche il rischio di rimettersi in termini economici perché poi i direttori si espongono direttamente quando organizzano eventi devono garantire un'ospedalità ai relatori devono attivarsi per eventuali copertura economica dei libri editi dai rispettivi comitati comunque darsi da fare per funzionamento di convegni mostre non disponendo come ho detto prima di entrate di nessun genere se non delle 5 euro per ogni socio che capite bene servono alla pena per tenere vivo il conto bancario e quindi senza il coinvolgimento di altri enti locali non consentono di poter andare molto lontano questi responsabili comunque sono direi conosciuti nel territorio almeno hanno rapporti con le amministrazioni comunali e provinciali sottolineo con tutte le amministrazioni quindi a prescindere dal loro colore politico con le prefetture con le università con le fondazioni con le banche e sono rapporti alla fine importanti perché poi se coinvolti questi enti possono dare anche un sostegno per le iniziative o altri enti o Rotary Lions che spesso si ben volentieri si propongono per condividere iniziative di interesse storico-culturale questo è accaduto con alcune mostre su Garibaldi sul 150esimo di Milità d'Italia sulla Grande Guerra quest'ultima mostra è stata onorata della medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Mattarella e ha avuto anche una collaborazione importante con la sede centrale e con Marco Pizzo che si ricorderà bene per le tante volte che l'ho disturbato ecco questi sono un po' i rapporti la vita dei direttori provinciali che poi naturalmente cercano di portare avanti un'attività concreta e che con queste magari figure è una nuova scadenza per carità chiariamo ripeto bene nessuno vuol fare il direttore in eterno nessuno aspira a questo un rinnovamento è giusto è necessario è salutare ma è altrettanto vero che nei piccoli centri lì avvicendamenti spesso lasciano dei vuoti che non sempre purtroppo vengono colmati o ben compresi venendo quindi a mancare quel ruolo polarizzante tra i direttori iscritti se rischio di vedere calare il numero degli iscritti in maniera significativa fino a determinare il possibile la possibile scomparsa degli stessi comitati provinciali come in alcuni casi purtroppo è accaduto sentendo le voci anzi dei soci mi chiedono spesso ecco una maggiore regolarità nel ricevere la rassegna del risorgimento che al momento mi sembra ferma al 2020 e anche questo ruolo di sensibilizzazione dei direttori che sono quelli che poi hanno avvicinato invogliato i soci ad aderire all'istituto del risorgimento è importante io rispondo sempre che ma sono anche sempre più in difficoltà che è fondamentale non è ricevere la rassegna ma mantenere la passione e l'amore per la storia del risorgimento per quanto mi riguarda ecco io non volevo parlare di me però ascoltando le proposte dei soci cerco anche di valorizzare i loro apporti scientifici quello che abbiamo fatto poi è noto perché fino al 2016 appariva nella sezione cartacea vita dell'istituto che era a margine della rassegna ecco ci tengo a ricordare che nel 2012 nel ventennale della costituzione del nostro comitato abbiamo creato una collana editoriale di studi storici che finora ha prodotto 15 pubblicazioni l'ultima delle quali è uscita appena tre mesi fa naturalmente io cerco sempre di portare dei suggerimenti così a fin di bene come si suol dire in senso costruttivo se non altro perché faccio parte dell'istituto da oltre 30 anni non c'è dubbio che questo l'architrave associativo come dicevo prima dell'istituto per la storia del risorgimento è in primo luogo quello di questi tanti comitati sparsi nella penisola che rappresentano bene secondo me l'idea proprio di unità d'italia è vero si è detto prima della scomparsa delle cattedre universitarie di storia del sorgimento c'è stata però è ancora rimasta viva una certa sensibilità culturale anche una nuova passione per gli studi dell'ottocento che certamente andrebbe alimentata e molti ricorderanno anche le 2500 firme che erano state raccolte un paio di anni fa anche con il coinvolgimento dei comitati dell'istituto attraverso una petizione online la fine del risorgimento un patrimonio da non disperdere ecco credo che si sia capito che sono tante le questioni magari su cui dibattere in un'apposita riunione e io vedo abbiamo la fortuna di poter interloquire direttamente con Roberto Balzani che è uno dei componenti del nuovo direttivo che qui investe di coordinatore del presente incontro che spero potrà sostenere questa richiesta che esprimo con un spirito costruttivo e collaborativo affinché si promuove ecco al più presto nella sede centrale a Roma una riunione con tutti i rappresentanti dei comitati se non altro per rilanciare quel legame associativo che ha caratterizzato buona parte della ultra secolare vita dell'istituto per la storia del risorgimento ringrazio tutti voi per l'attenzione grazie Stefano grazie anche per la tua passione per la passione che hai messo nel restituirci questo spaccato di una vita associativa che rende la storia del risorgimento e l'istituto un caso molto peculiare della vita culturale italiana da praticamente da sempre dal corso del novecento volevo dire soltanto pochissime cose in riferimento a questo non l'ho fatto naturalmente prima e cioè che il comitato si è ricostituito all'inizio dell'anno scorso sono riprese le pubblicazioni delle riviste e anzi i due fascicoli poi del ventuno arriveranno perché sono stati già licenziati quindi arriveranno ai soci naturalmente si sono ricostituiti anche dei comitati in giro per l'Italia anche grazie alle attività di tutti gli amici che hanno rivitalizzato il risorgimento nelle varie non naturalmente solo il comitato ma per tutta la spinta che poi c'è stato intorno a questa ripresa il comitato fino ad ora una vera e propria azione di ripristino di una normale possibilità associativa non l'ha avuta perché è stato interamente assorbito dai problemi amministrativi e legali che le precedenti gestioni avevano lasciato in eredità e che ci siamo trovati a gestire da capo e fra così sul collo Carmine Pinto è stato puntualissimo nell'affrontare queste cose ma si tratta di attività amministrative che rendono impossibile fino a questo punto attivare una normale vita perché non riusciamo facciamo fatica a spendere i soldi che pure ci sarebbero e che sono stati stanziati nel nostro bilancio per tutta una serie di problemi amministrativi complicatissimi che naturalmente qui non voglio neanche prendere in considerazione questo dipende dalla complessità del sito vittoriano nel quale l'istituto è collocato naturalmente che vede una relazione da sempre molto difficile molto complessa da gestire lo è stato sempre un problema difficile poi ce ne parlerà Marco Pizzo con gli altri attori in primo luogo le soprintendenze le gestioni diciamo del Ministero della Cultura che insistono sullo stesso sito e Stefano in parte lo sa questo ha fatto sì che l'attività dell'istituto sia stata anche bloccata per questi l'attività dell'istituto intendo lato soci cioè lato attività culturale noi avremo un enorme piacere di incontrare tutti i comitati ma con la prospettiva di decidere insieme una credibile progetto culturale fino adesso questa prospettiva non siamo riusciti se non nella rivista e nelle relazioni con i comitati ad avviarla ed è passato un anno ed è passato bene un anno quindi da un lato volevo rassicurare Stefano sul fatto che questa passione sua è condivisa da tutti quanti e dall'altra parte naturalmente augurarmi che questo stallo sia per essere superato perché diversamente diventa difficile diciamo far sopravvivere l'istituto ma questa è un'ulteriore complicazione del valore che il vittoriano ha acquisito negli anni recenti ne ho parlato prima accennato e naturalmente il fatto che sia diventato un simbolo particolarmente appetito anche dal punto di vista patrimoniale cioè del patrimonio culturale oggi uno dei siti più visitati di Roma con milioni di visitatori naturalmente rende come dire i riflettori intorno a questo oggetto più accesi e più complessi voglio dire da gestire di quanto potesse essere ai tempi della professoressa Morelli quando il vittoriano quando ho cominciato a frequentarlo tantissimi anni fa in cui il vittoriano era un un luogo semiabbandonato dal punto di vista patrimoniale della valorizzazione patrimoniale ma proprio su questi temi e anche perché ci dicono quanto questo argomento sia intrinseco agli stessi spazi della rappresentazione della monumentalità italiana diciamo per cui c'è un istituto che sta dentro un monumento è una cosa abbastanza originale direi quasi unica anche nella storia crede europea non sia frequente abbiamo un testimone d'eccezione Marco Pizzo che del museo del risorgimento è stato ed è protagonista ed è soprattutto stato il costruttore di questi percorsi culturali a cui cedo la parola come a un grande esperto oltre che a un grande appassionato di risorgimento come tutti noi naturalmente grazie allora io innanzitutto vi ringrazio dell'invito a partecipare a questo incontro anche perché già dagli interventi che mi hanno preceduto sono tante le suggestioni che mi sono venute iniziamo dall'incipit cioè il recupero della storia del museo del risorgimento che ha fatto in quel bellissimo libro a Baioni lui fa una fotografia di com'erano i musei del risorgimento negli anni 30 40 e 50 e se li confrontiamo oggi devo dire che il paragone è abbastanza impietoso perché i musei risorgimentali sono rimasti pochissimi ci siamo noi Milano Torino Bologna delle altre realtà ma a mio avviso una delle realtà che era insita e che ancora insita nello statuto cioè questo coordinamento del museo del risorgimento tra di loro in effetti non c'è mai stato e non c'è adesso cioè viaggia su delle relazioni personali cioè io e Stefano Razzi abbiamo fatto tantissime attività insieme come le facciamo con Milano con Torino eccetera ma sono delle cose poco istituzionalizzate ancora diverso è il problema proprio tra del ruolo che anche ultimamente ha avuto l'Istituto del Risorgimento il Museo del Risorgimento con il Vittoriano specialmente adesso che si è creata una sorta di frattura per cui il museo in parte è gestito direttamente dal nuovo polo museale e l'Istituto ha da un'altra parte delle collezioni intrinsecamente legate a quelle del museo ma questo perché come mi insegnava il professor Talamo che era uno dei protagonisti della stagione del Vittoriano mai andare in canoa con un elefante ecco l'Istituto è andato in canoa con un elefante che è il Ministero per i beni culturali e la gestione è sempre stata abbastanza complessa ora se noi facciamo il paragone tra quelli che sono i musei storici italiani con l'esperienza che ho sentito prima per esempio da Kroll della Germania anche qui devo dire il paragone abbastanza impietoso perché i musei storici di Berlino di Bondi Francoforte cioè incentrati sulla storia hanno una struttura e una forza molto ma molto diversa dai musei che si occupano di storia in Italia con delle mostre anche di tutt'altro piano e di tutt'altro livello ma questo forse anche perché è diversa l'attenzione alla storia che c'è anche in altre nazioni basti pensare che è stato fatto recentemente insomma qualche anno fa uno studio sui musei di storia contemporanea in Italia e in Italia di fatto manca un museo di storia contemporanea cioè ci sono dei musei del risorgimento dei musei della resistenza ma un museo complessivo della storia dell'Italia regno e repubblica di effetti manca se noi andiamo al museo di storia di Berlino di Bonn vediamo che lì la storia viene raccontata anche fino agli anni 90 fino al 2000 cosa che storiagraficamente museograficamente in Italia è un progetto che mi pare abbastanza lontano ora devo dire che l'istituto sembra in qualche modo rinato anche grazie alla presidenza di Tinto di qualche anno che si è incitato da un anno e pur mettendo mano alla gravissima gestione problematica dell'istituto di per sé sta dando un taglio internazionale e tra virgolette anche giovane e contemporaneo alla ricerca anche perché la ricerca del risorgimento oggi è un po' diversa cioè noi come istituto faccio come esperienza mia personale siamo chiamati a collaborare a delle mostre molto più in linea con il dibattito contemporaneo cioè adesso io ho richieste di prestito per esempio da parte del MUDEC di Milano che a maggio farà una mostra sugli afroamericani in Italia sul black people quindi da Gouillard in poi che è molto in linea con alcune tematiche anche della public history contemporanea così come oggi la mostra storica che attualmente c'è a Roma è quella sugli ebrei nella contemporaneità d'Italia dove anche noi abbiamo cercato di dare una mano ora nella la gestione poi del museo quale sono state i grandi cambiamenti oramai io sono lì da circa vent'anni e da un inizio in cui l'attività didattica del museo era fondamentalmente quella di fare delle mostre tematiche penso a quella di Garibaldi Benedetto Croce Mazzini eccetera mano mano si è cercato e si è visto specialmente a Roma che l'esigenza di una struttura museale era quella fondamentalmente di esternalizzare la sua attività museale noi negli ultimi anni abbiamo fatto tantissima didattica storica non solo nel museo ma creando dei seminari in quelle che sono le periferie romane ma periferie periferie parlo di Torbella Monaca San Basilio eccetera portando lì materiali e facendo lì dell'elaborazione storica ora secondo me fare storia del risorgimento oggi significa anche fare storia della strumentazione storica cioè spiegare specialmente ai gli studenti delle scuole superiori quali sono gli strumenti dello storico e qui faccio riferimento anche all'attività di collaborazione che noi abbiamo avuto con il distituto luce con il distituto sonoro cioè esistono altre fonti che possono essere utilizzate e queste altre fonti spesso non sono di semplicissima lettura e l'altro cardine che secondo me è stato anche molto importante è il protocollo di intesa che oramai abbiamo da circa otto anni con il DAP ministero della giustizia che ha permesso a una serie di detenuti di venire a lavorare in istituto facendo non solo attività di schedatura di materiali ma andando noi poi nelle carceri a fare attività didattica e di storia del risorgimento che ha portato per esempio parlo dell'iniziativa che abbiamo fatto nel carcere di Avezzano che i detenuti del carcere di Avezzano hanno organizzato una mostra che hanno realizzato poi sulla prima guerra mondiale nel castello di Avezzano e la cosa paradossale è che i detenuti non sono potuti andarla a vedere per ovvi motivi di sicurezza e di gestione dei carceri italiani ora è proprio questo secondo me il modo per rivitalizzare e dare nuova vita al risorgimento e alla storia museale quest'anno cioè l'anno scorso c'è stato il centenario del Milite Ignoto e noi come istituto quindi con Carmine Vinto con l'Università di Milano e con Barbara Bracco abbiamo fatto un volume che conteneva la digitalizzazione la schedatura eccetera di qualcosa come 45.000 cartoline inviate al Milite Ignoto ora la cosa importante in questo caso non è stato il fatto in sé cioè la mostra e il volume quanto che per fare questo lavoro sono stati coinvolti i carceri dei detenuti di Regina Celi Re Bibbia il carcere di Massima Sicurezza di Paliano dottorandi dell'Università di Milano studenti delle scuole romane studenti dell'Università di Milano cioè un modo diverso di far avvicinare gli studenti alla storia ecco io credo molto nella vitalità del risorgimento ma proprio perché il risorgimento oggi viene letto sempre più come un fenomeno complesso che riguarda non solo la parte più storico-politica ma anche tutte quelle che sono la parte pubblica il teatro la fotografia la stratificazione proprio culturale che si è verificata nell'Ottocento ora l'Istituto per il Risorgimento ha un pregio e un difetto cioè il pregio che comunque contiene un archivio immenso sulla Prima Guerra Mondiale sui documenti il difetto è che forse contiene troppo rispetto alle sue possibilità noi abbiamo un patrimonio storico-documentario enorme che va gestito con molta complessità e anche l'attività museale che fino a qualche tempo fa gestivamo noi direttamente la grossa problematicità era innestata al fatto che come gestire un museo che mentre negli anni Ottanta aveva qualche cosa come 20-30 mila visitatori oggi ce ne ha 3 milioni e mezzo questo è un cambiamento epocale di questi 3 milioni e mezzo ecco la metà la più della metà sono studenti o persone di passaggio a Roma e specialmente gli stranieri spesso non sanno neanche chi è Garibaldi non sanno chi è Mazzini non sanno che cos'è il risorgimento e quindi anche lì si tratta di livellare la comunicazione e quindi il museo stesso deve avere un approccio diverso cioè come raccontare la storia oggi ecco questo era il succo del mio discorso grazie veramente molte grazie anche per questa testimonianza che fra l'altro indica comunque che quell'enorme giacimento di beni e di documenti resta il punto catalitico per chi comunque si voglia misurare con la storia del risorgimento italiano ecco perché dico il vittoriano è un luogo e uno spazio di straordinaria importanza quindi non solo simbolica ma anche proprio di attività e di potenzialità di ricerca e di divulgazione quindi credo che sia che questa testimonianza fosse particolarmente importante anche con tutte le criticità naturalmente che segnala di convivenza con un monumento oggi diventato molto molto significativo importante visitato grazie ancora e adesso passo la parola a Fernando García Sanchez che insegna al Centro de Ciencias Humanas Sociales di Madrid ringraziandolo ancora per la sua presenza qui e per un'ulteriore testimonianza di questo rapporto comparato che questa disciplina e questi argomenti hanno con lo spazio europeo grazie a te e per essere qui oggi con noi grazie 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 la Sisco e grazie a te Roberto e grazie Andrea per questo invito su degli argomenti così interessanti tutto tutto il percorso dei seminari è stato veramente interessante e anche direi utili cose che tante volte nei nostri seminari non possiamo affermare lo stesso io direi subito che il mio piccolo intervento va più nella linea del tuo intervento Roberto che hai chiamato troppo contemporaneista forse perché quando mi sono messo a scrivere qualche riga su questo sul tema di questa seduta risorgimento società e mi sono reso conto che venivano fuori delle domande di di grande respiro delle domande che io mi sto facendo ormai da tempo con la situazione della 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 storia anzi direi che io inizierò per per riflettere se invece il risorgimento è società non dobbiamo cominciare a parlare meglio di storia e società e perché parto dalla base che forse tutto sbagliato che c'è una crisi dello studio della storia del risorgimento ma che c'è una crisi innanzitutto della storia e c'è una crisi dello storico e del suo ruolo nella società non dico sia meglio peggio dico che non c'è più un ruolo di una certa presenza di una presenza solida nella nella società insisto secondo me secondo me ma non è la società che ne ha un problema allontanandosi ipoteticamente del suo interesse per la storia in questo stesso foro in questa stessa seduta si è ricordato molto graficamente che nelle librerie oggi lo spazio dedicato alla storia viene ridotto ogni giorno che passa ed è vero secondo me è vero almeno per quello che so dell'Italia è così per quello che so della Spagna è anche così ma ci dimentichiamo forse che in queste stesse librerie lo spazio dedicato al romanzo storico è ogni giorno che passa più grande cioè non c'è secondo me un desinteresse per la per la storia anzi al contrario c'è un desinteresse per un modo di trattare e di raccontare la storia diciamo da un punto di vista strettamente accademico che risulta e permettetemi questa espressione molto poco gentile col comune della cittadinanza del pubblico del pubblico perché io capisco società non come la società degli storici non come la società la società nel suo insieme e certo le nostre società hanno cambiato tantissimo negli ultimi decenni hanno cambiato profondamente la forma e anche il fondo nella trasmissione dell'informazione non è la società che deve cambiare siamo noi quelli che dobbiamo realizzare questo cambiamento un cambiamento in profondità davanti a una realtà che è tutta nuova dobbiamo aprire forse le porte delle nostre torri di d'Avorio e confrontarci con quella realtà con quella che è non quella che immaginiamo quella che c'era una volta forse dobbiamo tornare all'essenza del nostro mestiere cioè e studiare per spiegare e in questo spiegare è dove dobbiamo realizzare tutto lo sforzo non solo si tratta di adattarci alla nuova società dell'informazione si tratta tra le altre cose di adattare il nostro linguaggio al cittadino normale anzi andare a cercarlo nei fori che sono i suoi fori molto lontani questi fori del dei saloni dei seminari e dei saloni dei congressi degli storici lo diceva adesso Marco Pizzo dobbiamo inventare un nuovo modo di comunicazione sono assolutamente d'accordo e in questo senso vengono queste parole io sono cosciente che sto parlando di realizzare un grandissimo sforzo anzi sto parlando sono cosciente di un cambiamento di mentalità ma a mio avviso non c'è un'altra alternativa se vogliamo continuare a sostene a difendere che la storia ne ha un ruolo protagonista nella sua funzione principale cioè la formazione dei cittadini io so che questo è più facile dirlo che portarlo avanti innanzitutto quando il nostro spazio degli storici nella società viene frequentemente occupato per quello che io chiamo i franchitiratori i franchitiratori della storia tante volte giornalisti o comunicatori chiamati adesso così in genere che riescono a sparare a tutto quello che si muove cioè a parlare dei più diversi argomenti diversi periodi storici sempre con una grande sufficienza la mia proposta non è occhio non è abbandonare la specializzazione per diventare divulgatori anzi al contrario io considero che la divulgazione migliore quella giusta è quella fatta da parte della specializzazione perché che soltanto la specializzazione conosce le condizioni ideali per valorizzare e distinguere gerarchicamente quello che è importante di quello che è accessorio la crisi degli studi sul risorgimento o dell'ottocento in generale parlando anche della Spagna diventa un risultato particolare della crisi generale della storia c'è da anni una crisi della politica come diceva Valzani che può spiegare in parte almeno una crisi della storia politica da anni anche dal punto di vista accademico si è privilegiato il novecento in confronto con l'ottocento anche da noi anche in Spagna e tutti sappiamo sia per la Spagna sia per l'Italia i periodi e gli argomenti che concentrano l'attenzione di un grande numero dei nostri golei basta dire che ancora oggi più ancora che negli anni precedenti la seconda repubblica spagnola e la guerra civile sono oggetto di discussione anzi dei divatiti parlamentari non soltanto noi abbiamo dal duemilasette una legge della memoria storica legge memoria e storia sono tre cose che insieme a uno storico almeno a me sono un po' particolari adesso credo che tra poco avremo una legge della memoria democratica così che sappiamo che viene valorizzata in più la storia di Spagna che viene fuori dal 36 fino a almeno fino al 75 perché tratta di rimediare di mettere a punto sia il colpo di stato del generale Franco cioè la guerra civile sia il franchismo e le sue migliaia di vittime e lo diceva il collega Pedro Rucula nel incontro precedente che nella Spagna non c'era una tradizione storiografica dedicata allo studio della storia di altri paesi e secondo me questo questo è vero anche perché in Spagna c'è stata la permanenza quello che noi abbiamo chiamato il conflitto interno che ancora oggi non soltanto in passato c'entra una buona in buona misura l'attenzione ma non soltanto degli storici per questo che c'è stato tradizionalmente una legame molto forte tra storia e politica e gli storici sappiamo che quando entra la politica nel terreno della storia la storia va fuori dalla finestra non è un semplice rapporto e meno ancora pacifico io modestamente nella misura che ho lavorato sulla storia del risorgimento l'ho fatto con un doppio obiettivo con l'obiettivo di ricostruire la storia dei rapporti tra l'Italia e la Spagna è innanzitutto come una forma di misurare l'impatto degli avvenimenti italiani nella società espagnola cioè lo stesso di dire le conseguenze dell'impatto del risorgimento a livello internazionale perché a mio avviso non possiamo rimanere soltanto a considerare il risorgimento come un processo per la formazione del stato unitario bensì del risorgimento come un gran avvenimento internazionale perché ha messo in discussione in un divatito molto molto ricco e molto diverso le grandi questioni siano ideali siano ideologiche che erano in discussione in tutta Europa lo stesso concetto di nazione lo stesso concetto di costruzione nazionale lo stesso concetto di rivoluzione di unità di federazione di monarchia di repubblica sono secondo me degli argomenti abbastanza contundenti per riconoscere nel risorgimento riconoscere il risorgimento innanzitutto come un avvenimento un grande avvenimento internazionale lo diceva Massimo Bernardini nell'ultima seduta che la storia del risorgimento è una storia fantastica una storia fantastica e io sono d'accordo ma mi domando e vi domando a tutti voi perché essendo una storia fantastica non riusciamo a comunicarla così ai nostri concittadini grazie tante per l'ascolto grazie anche a Fernando per questa riflessione appassionata che in effetti devo dire riporta la questione anche ben oltre il tema del risorgimento alla presenza della storia della storicità nella società contemporanea a fronte dei percorsi del presentismo da un lato e dall'altra parte a questa al tema della giuridificazione dei rapporti sociali che tendono a rendere una lettura critica e controversa come è naturale per lo storico qualcosa di difficilmente a volte esprimibile per una diciamo mal posto questione di rispetto di regole sociali che da non contravvenire per cui la sensazione di essere a volte anche meno liberi nella capacità di esprimere di comunicare un po' ce l'abbiamo talvolta a fronte dei nostri quando ci confrontiamo con i nostri ragazzi nelle aule e quindi credo che questa tua riflessione sia diciamo sia il degno la degna conclusione di questa di questa riflessione che siamo andati facendo oggi che è stata secondo me di grandissimo interesse per la pluralità delle voci e anche dei temi locali nazionali internazionali e che riguardano i musei che riguardano anche il nostro la nostra responsabilità di storici e di cui il risorgimento è naturalmente un piccolo è un tassello non è non è non rappresenta l'intero ma per noi un argomento comunque di rilevante importanza perché quello studiamo io adesso naturalmente chiederei se ci sono delle domande perché viste considerate le tante suggestioni che sono credo venute a tutti noi ascoltandovi se ci sono anche dal nostro pubblico delle riflessioni sembrerebbe il caso di ascoltarle aspettiamo qualche istante per buonasera Roberto non so se ciao Marco ciao si possa prendere la parola così o se ci sia una procedura no non c'è emergenziale è un contesto di totale libertà il museo delle libertà da questo punto di vista prendo proprio una suggestione che è stata lanciata dagli ospiti che ringrazio tutti perché con diverse sfumature hanno tutti sollevato in maniera anche pratica dei problemi e anche prospettando delle soluzioni secondo me molto interessanti siccome mi appresto a diventare responsabile del comitato del risorgimento di Cagliari effettivamente abbiamo l'ipotesi e la volontà di creare un sodalizio con l'archivio di Stato di Cagliari che adesso ha una direzione anche giovane piuttosto dinamica proprio per creare un piccolo museo di risorgimento non abbiamo in mano magari probabilmente un materiale estremamente originale in sé però pensavamo di utilizzare i documenti dell'archivio cioè di esporre i documenti dell'archivio e in qualche modo sensibilizzare non solo appunto i frequentatori dell'archivio che magari non sono moltissimi ma pezzi di società e di scolaresche che possono essere in qualche modo interessati anche a vedere da che cosa nasce la storia del risorgimento perché come è stato suggerito come è stato più volte fatto presente anche in questa sede piuttosto intelligentemente il novecento chiaramente ha più brillantezza di proposizione ha delle immagini ha una possibilità di incidere sul pubblico maggiore rispetto all'ottocento però il documento ha ancora un suo fascino se viene in qualche modo presentato in maniera più divulgativa e non troppo diciamo accademica può anche incuriosire i giovani studenti delle scuole o comunque la società stessa che vede materialmente da che cosa nasce una ricerca quindi questo il nostro nuovo giovane direttore dell'archivio di stato ha lanciato questa suggestione al comitato del risorgimento ha detto io posso creare un piccolo museo del risorgimento nei locali dell'archivio attraverso la documentazione che conserviamo chiaramente è chiaro che sarà una declinazione più regionale ma questo nulla toglie comunque al fatto che si possa fare un piccolo percorso anche a tema anche mutandolo nel tempo arricchendolo in qualche modo adattandolo anche a quello che è il materiale che abbiamo a disposizione ecco questo è un modo forse pratico anche a basso costo per rilanciare in qualche modo il più che la storia di esorgimento proprio l'ottocento un secolo che più volte qui abbiamo detto non deve essere dimenticato non deve essere lasciato in un limbo anche perché la nascita della nazione la nascita di tutte quelle categorie storiografiche che poi il novecento appunto comunque sfrutta indaga con grande con grande attenzione ma che chiaramente non può come dire limitarsi a un raggio d'azione che appunto parte dall'inizio del novecento e dimentica o magari tralascia l'origine di queste categorie politiche come appunto il Parlamento le istituzioni i partiti la lotta politica e via la partecipazione elettorale via discorrente quindi ringrazio per le suggestioni e lascio altri la parola così magari sicuramente ci sarà sempre qualcosa di interessante da ascoltare e ringrazio soprattutto Roberto Balzani che è stato il mio primo professore di storia del risorgimento al Cesare Alfieri ecco questo lo volevo ricordare in piena guerra fredda nonostante questo ti è appassionato l'ottoceno nonostante grazie Marco e Laura Laura Furnier grazie buonasera a tutti io dunque vi parlo anch'io da fuori dall'estero ma forse in modo un po' ingenuo soltanto per darvi la mia esperienza anche di collaborazione con delle persone che stimo molto e in Italia si stanno occupando davvero secondo me abbastanza bene della diffusione della della storia del risorgimento sul territorio che è il coordinamento nazionale delle associazioni risorgimentali e dunque io rappresento il gruppo estero francese che si chiama Sefri Società di Tutti Consessi di Risorgimento Italiano che è nato in seno all'istituto del risorgimento di Roma come dunque gruppo estero che però ormai da un paio d'anni collabora anche con questo coordinamento nazionale associazioni risorgimentali e devo dire che forse grazie alla pandemia al lockdown e a questa necessità per tutti di mantenere i legami attraverso webinar e presentazioni che si svolgono online ha permesso di intanto per noi dall'estero dalla Sefri di conoscere molte delle attività svolte sul territorio da questo coordinamento di partecipare anche a delle attività online e di vedere come l'anno scorso hanno firmato un protocollo del museo diffuso del risorgimento coinvolgendo molti territori molte entità locali e siamo ho potuto vedere che diversi coordinamenti comitati locali sono anche gestiti da giovani giovanissimi studiosi anche fuori dall'accademia come diceva Stefano e penso che queste realtà esistono e tutte meritano di essere valorizzate anche con un discorso turistico di sviluppo del territorio a partire anche dalle loro attività si possono creare appunto questi percorsi e valorizzazioni dei diversi monumenti dei reperti delle ex deputazioni di storia patria e penso che ci sia comunque un futuro per il risorgimento diffuso e nella società ma forse sono troppo ottimista perché ho questo mito dell'Italia dall'estero che non visito più da quasi due anni grazie Laura io ti ringrazio davvero perché sei un'infaticabile organizzatrice di attività e di ricerca e a nome di tutti i risorgimentisti italiani ti siamo davvero grati per quello che stai facendo e per la passione che ci metti quindi grazie ancora di tutto e speriamo di poterci vedere presto e adesso Luca anima della rassegna storica del risorgimento e che ci racconterà anche della rassegna Sì no io grazie Roberto la rassegna adesso ci arrivo però volevo partire da un presupposto appunto che mi sembra che che oggi noi viviamo un po' un decalage annoiato paradossalmente tra una storiografia del risorgimento sul risorgimento dell'ottocento politico italiano che è andata molto avanti e in questi ultimi 20-30 anni si è largamente trasformata l'abbiamo detto in altri momenti di questo seminario e io credo che sia abbastanza in connessione paradossalmente con temi questioni della contemporaneità e che fa uno sforzo di connettere questo 7-800 con il tempo presente perché poi alla fine il risorgimento può tornare ad interessare se noi riusciamo a spiegare quanto quel momento è connesso con quello che noi viviamo perché se no è ovvio che diventa una roba antiquaria e diventa poco interessante io credo che l'astrografia oggi sull'ottocento sta riuscendo riesce abbastanza certo poi con i limiti ci sono sempre però ha fatto un grande sforzo in questa direzione però questo sforzo effettivamente ancora ha delle ricadute e delle ricezioni limitate su un più grande pubblico perché effettivamente quando anche tu prima Roberto facevi riferimento a questa assunzione di ruolo che il Presidente della Repubblica hanno avuto nel discorso storico poi pubblico del risorgimento di fatto oltre che a diventare un po' i numi tutelari del Vittoriano eccetera ma anche proprio discorsivamente il discorso pubblico sul risorgimento in fondo l'hanno fatto Tampi e poi l'ha fatto Napolitano meno Mattarella per motivi prodotti anche culturali di cultura politica che proviene e via discorrendo però il problema ecco che quando io ascoltavo durante il centocinquantesimo quello diceva Napolitano ma ancora di più quello che diceva prima Tampi io già lì sentivo un oiato una lontananza tra quello che io molti altri io ero un po' più giovane a quei tempi dottorando e chi prima di me aveva cercato di fare rivedevo un oiato sprepitoso rivedevo l'antiquaria rivedevo la monumentalizzazione rivedevo una serie di cose che inevitabilmente allontanano sono respingenti cioè appunto a me cambia di parlare con degli studenti di Roma dicevano quando andavamo ci portavano a scuola a vedere il museo di sorgimento a Vittoriano ci mettevano le mani nei capelli e poi sono laureati in storia di sorgimento non è merito mio ovviamente è merito di una nostra stereografia che rende questa cosa più più appealing quindi ecco lo sforzo che facciamo che proviamo a fare certamente dovendo anche colmare dei ritardi mi rendo conto ma appunto come ha già detto Roberto i numeri del 21 arriveranno insomma è proprio quello di mettere a disposizione la rassegna storica di sorgimento di questo mondo della ricerca nuova fatta anche da moltissimi dottorandi laureandi magistrali giovani e di mettere a disposizione per cercare di far arrivare intanto a quelli che non sono pochissimi cioè i numeri dicono che più o meno 1500 soci dell'istituto abbiamo dovuto ristampare la rassegna dei due numeri del 20 perché ne avevamo salvati solo 1200 copie poi altre persone si sono iscritte in tante quindi adesso ne stampiamo altre due e trecento per arrivare a questi soci quindi la rassegna questo innanzitutto abbiamo un po' interpretato tutti noi in questo modo cioè come un luogo dove mettere a disposizione e far diciamo confluire tutta questa vivacità che c'è nella storiografia c'è ad alti livelli e che c'è ormai anche dai primi dai livelli più bassi degli studenti che si laureano degli studenti che fanno dei dottorati dei dottorati di ricerca e poi il tentativo questo è chiaro che ci vuole più tempo perché non basta non si può fare con due numeri o con tre numeri però di fare quell'operazione lì di connessione appunto di questo 800 o 7800 diciamo più precisamente con con il con il tempo presente e anche di un risorgimento di nuovo che secondo me è tanto più fantastico e tanto più appassionante e come il grande evento internazionale cioè naturalmente era molto ragione e fernando grazia sanzo un evento internazionale dentro tanti eventi internazionali e quella che appunto oggi chiamiamo l'età delle rivoluzioni che sta e di cui è un segmento straordinario e quindi tentativo di messa in connessione proprio di quanto di quanto avviene nello spazio italiano con ambiti più solo che appunto la copertina del numero che abbiamo mandato oggi a Rubettino 1 2021 a George Washington in copertina quindi per cercare di mettere in evidenza e parte da una stampa tra l'altro appunto non a caso conservata al museo di sorgimento che è uno dei primi ritratti europei di George Washington di ritratti immaginari perché la prima iconografia europea di George Washington è una iconografia immaginaria di fantasia comincia con i ritratti dal vero solo quando la Fayette porta con sé il primo ritratto dal vero e questo è un modo un tentativo anche questo appunto di dire che quello che succedeva di là arrivava di qua si connetteva e quindi nasceva la politica contemporanea moderna da una parte dall'altra dell'oceano in sostanza dell'oceano atlantico e di cui questo spazio italiano era uno scenario io credo che cercare di colmare questo iato e cercare di promuovere e di connettersi sempre di più ma noi dobbiamo connetterci però bisogna anche che ci sia qualcuno che vuole connettersi con noi e con questo tipo di racconto diverso del risorgimento perché se no noi possiamo sempre autoflagellarci dire che non scriviamo però poi abbiamo anche bisogno di connetterci noi ma che qualcuno voglia connettersi noi ci proviamo e proviamo a mettere a disposizione tutti questi materiali grazie scusate sono stato lungo no grazie anzi era opportunissimo quello che quello che hai detto mi veniva in mente quello che ha detto Farnando che adesso gli ruberò per parlarne e nei prossime volte che mi capiterà di farlo in pubblico i franchi tiratori e noi siamo soggetti ai franchi tiratori quindi abbiamo questo rischio come storici più di altri probabilmente più di altre discipline no perché usiamo una lingua che è quella apparentemente discorsiva di tutti i giorni e quindi non abbiamo diciamo neanche la barriera lessicale che protegge o formale che protegge delle altre delle altre discipline ma questa è anche la nostra grande opportunità il nostro grande dovere nella costruzione della cittadinanza ovviamente riprendo una cosa che diceva Thomas sarebbe un'idea bellissima quella di una mostra europea sul periodo diciamo su questa età non del risorgimento ma delle rivoluzioni nazionali del periodo del primo ottocento e soprattutto questo elemento sicuramente il tema delle armi del modo con cui si concepisce il rapporto di mobilitazione sia interno che esterno è sicuramente una grande coinè per esempio questa anche da vedere da mostrare è possibile penso al nostro museo di Roma ma ce ne sono tantissimi naturalmente questa sarebbe un'idea spettacolare e sarebbe molto in linea con quello che anche cerchiamo tutti di fare di creare attraverso il risorgimento dei ponti quando parlava Fernando mi veniva in mente quando arriva in Spagna c'è la prima repubblica per il movimento democratico italiano è una passione che si riaccende sembrava impossibile che una monarchia potesse tramontare nell'Europa dopo il 1860 il fatto che ci sia un caso che invece apparentemente funziona per un po' rappresenta una grande speranza e questo diciamo anche questo ha un significato per tutto quello che accade anche nel nostro paese quindi questi rapporti di andate e ritorno delle suggestioni che Luca evocava mi sembrano importantissimi Fabrizio Rossi poi Fernando grazie non si sente perché non hai acceso ecco scusami buonasera a tutti agli amici che un po' che non ci vediamo fa molto piacere rivedervi e rivederci no volevo proprio dire una cosa io a proposito dell'intervento di Fernando Sanchez che mi ha molto colpito e vorrei farlo un po' dialettico il mio intervento per vivacizzare un po' mettendomi sulla scia di Fernando io riprenderei il tema del conflitto interno la categoria che lui ha usato per la Spagna ecco quel conflitto interno secondo me e mi aggancio alla tua piccola provocazione del 92 e 2011 quel conflitto interno secondo me ancora in qualche modo sotto traccia rimane anche nella nostra storiografia e ti faccio due esempi ci ricordiamo gli anni 90 la Lega il tema del recensionismo lì la storiografia marxista si dimentica completamente di Molfese completamente perché questo? per un approccio politico quindi l'avvertenza che fa Fernando sulla storia legata alla politica è uno dei temi secondo me che fa sì che sia il romanzo storico che tanto è un racconto a essere prevalente sulla storia politica sulla storia politica ma non legata alla politica questo è un punto cruciale per riacquistare credibilità cioè usiamo una parola difficile e ostica e magari da non usare mai troppo spesso scientifica ma usiamola allora qui per esempio mi viene nel 2011 il discorso di Banti il discorso di Banti con grande arricchimento apripista sentimento emozioni eccetera ma la rivoluzione passiva di Gramsci è insoffitta qualcuno lo ha notato no? Macri ha fatto un intervento su questo dicendo attenzione non è che improvvisamente il risorgimento diventa di massa perché se no non è più dell'It o comunque bisogna discuterne poi terzo punto i temi come diceva i temi li deve avanzare la ricerca storica e allora chiudo per esempio che sono un po' gli studi che faccio io per esempio sull'ottocento ci vogliamo interrogare come dice Merigi sul secolo monarchico ancora oppure ci vogliamo misurare con la famosa confederazione che viene sbrigativamente finita col 29 aprile 48 vogliamo fare un discorso sulle costituzioni per esempio il filone spagnolo di Cadice che è trascurato rispetto all'orleanista quando nel 48 la Sicilia è ancora tutto sommato sul filone di Cadice cioè tutti questi temi qua secondo me che se vengono affrontati con analisi storiche approfondite possono arricchire la storia del risorgimento rendendola nuova rendendola nuova vivace non con i famosi luoghi comuni quindi il tempo presente di Gianluca va benissimo ma con tutte queste avvertenze e con questi approfondimenti ecco volevo gettare questo sasfero nello spagno perché Fernando secondo me ha detto cose giustissime grazie 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 Fabrizio passo la parola a Fernando e poi ad Andrea per due parole conclusive presidenziali diciamo così cioè grazie Fabrizio grazie per il tuo intervento sì sono d'accordo anche in Italia dobbiamo essere attenti alla alla permanenza del conflitto interno ma figura di che in Spagna il conflitto interno rimane anche negli studi di politica estera cioè non è comparabile cioè la produzione storiografica italiana non è comparabile con quella spagnola no assolutamente assolutamente no cioè quello che io mi sono trovato in Italia quando sono arrivato nel lontanissimo 1987 per me è stata la scoperta dell'America è stato un mondo assolutamente diverso da quello che lasciavo io allo stesso modo che Roma mi sembrava una città di province in comparazione con Madrid la ricchezza storiografica tantissimi riviste una produzione incredibile non ha paragone con quello che succedeva in Spagna anche perché durante 40 anni avevamo avuto una dittatura che non ci permetteva altro che pensare alla gloria dell'impero e poco di più anzi l'ottocento per la dittatura politicamente era un secolo cattivo perché era il secolo che aveva sviluppato il liberalismo cioè il marxismo per conseguenza ed era un secolo che non aveva servito era un secolo poco patriotico in questo senso per quello che hai detto Roberto sulla la prima Repubblica Spagnola guardiamoci che la Spagna ne ha un versante durante tutto l'ottocento molto italiano i repubblicani e spagnoli ad esempio il presidente della Repubblica Emilio Castellar che era storico conosceva benissimo la storia d'Italia è stato in Italia si ha fatto un viaggio per conoscere a Garivaldi a Mazzini eccetera e lui ha portato tante cose dell'ideario repubblicano italiano ma figuriamoci come finisce come inizia la Repubblica la Repubblica inizia lasciando fuori un re italiano esatto Amadeo I chiamato così Amadeo I de Savoia è un re italiano ma come mai un re italiano il primo re democratico della storia perché è stato scelto da un Parlamento ma figuriamoci un re scelto da un Parlamento perché è italiano non è un caso non è un caso è italiano perché tutto il settore che possiamo chiamare progressista del quadro liberale spagnolo è italiano è italiano nel senso che hanno fatto tanti di loro la carriera politica in Parlamento discutendo sul risorgimento italiano questo è fondamentale anche io vorrei dire per concludere Roberto davvero che finisco così l'ignoranza mutua l'ignoranza mutua abbiamo proprio un abisso tra la Spagna e l'Italia tutti dicono che siamo i paesi d'Europa che più si assomigliano forse sì non lo so io credo di no ma quelli che ci conosciamo di meno sicuro perché noi ci conosciamo mutuamente nella nostra storia e vi racconto un aneddoto quando io mancavano tre quattro giorni per fare la pubblicazione ufficiale il giorno d'uscita di un libro che ho fatto sulla sulla grande guerra il capo dell'editoriale editoriale che di una certa rilevanza mi ha invitato a cena per parlare del libro evidentemente lui aveva letto il libro mi sono rimasto molto sorpreso e dice prima di tutto volevo farti una domanda a Fernando perché mai un'attenzione così importante all'Italia nel libro e io l'ho detto senti tu che ne sai della storia d'Italia lui mi ha detto nulla dico allora ma dico la prima guerra mondiale che forse è una cosa che più delle altre sono messa sullo stereotipo anche sul ruolo della Spagna ma possiamo dire qualsiasi altro argomento ma gli stessi spagnoli come gli stessi italiani purtroppo non conoscono la sua storia e insisto dobbiamo andare per strada a cercarli e ad spiegarli perché è importante conoscere la storia perché perché è interessante e perché è così divertente la storia ma così come di solito parliamo noi tra noi non abbiamo niente da fare è cambiato tutto è cambiato tutto assolutamente tutto anche noi dobbiamo e possiamo cambiare grazie grazie ancora anche per questa conclusione perfetta direi grazie a 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 gli altri amici che sono intervenuti e direi che l'orario delle due ore dobbiamo stare in questi termini credo necessari per rendere la cosa diciamo gestibile attraverso questo mezzo e quindi passo la parola ad Andrea per una per un per un piccola riflessione conclusiva ringrazio ancora marco marco maria terrano per la sua competenza grazie 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 a tutti grazie roberto grazie a tutto il gruppo di lavoro di questo ciclo di seminari grazie assolutamente alla sisco grazie a marco gli altri che hanno contribuito vorrei però non dire alcune parole conclusive ma invece rilanciare l'idea di un ragionamento comune magari anche in sede esiste perché il tema che abbiamo affrontato in questi seminari forse oggi roberto diciamo effettivamente siamo riusciti a tenere insieme tutti gli argomenti che abbiamo ma qui centro c'è il tema sul quale inizialmente proprio insieme io e te ricordo appunto ai seminari sisco a modena avevamo avevamo in qualche maniera individuato e cioè le grandi opportunità e le difficoltà presenti nel nesso tra ricerca storica e società credo che qui tutti oggi hanno richiamato l'importanza della ricerca e Thomas in particolare mi permetto di dire alla fine diceva bisogna fare ricerca concreta analitica e diceva anche fernando è che appunto sottolinea sottolineava la specializzazione e tendo riprendendo le cose dell'ultimo seminario che appunto aveva guidato ariana non adattarsi alle mode non adattarsi ai franchi tiratori forse non sapremo nemmeno farlo ma invece fare buona ricerca io credo che la ricerca comunque la stereografia che nel prodotto sia buona o cattiva buona o cattiva ci può essere una nuova buona ricerca ci può essere una nuova cattiva dice qui sta la nostra responsabilità fare buona ricerca e che questa ricerca entri questo è il tema anche che credo sollevava anche gianluca che sia in contatto con la società e diceva anche appunto bernardini qualcuno lo richiamava il tentativo che noi abbiamo fatto in televisione era quella proprio di incontrare gli storici quelli che appunto fanno la ricerca e qui credo il secondo elemento e poi che no un terzo questa ricerca appunto ricerca e società piuttosto che adattarsi perché qualcuno diceva chi fa l'agenda di questo rapporto questo tema centrale ovviamente chi fa l'agenda di questo rapporto e mi domando se noi dovessimo veramente adattarci a una invece di fare ricerca una presentazione pubblica della storia che un'altra cosa piuttosto la ricerca dovrebbe essere diciamo promossa in qualche maniera dobbiamo trovare i canali ma è la ricerca il cuore ricerca storica rimane il cuore di tutto allora l'ultima osservazione l'esigenza delle collaborazioni qualcuno diceva gli alleati fare alleanza fare associazione se vogliamo fare un'altra parola forse più moderna fare network anche laura diceva appunto no delle varie possibilità che ci sono oggi si offrono delle grandissime opportunità e dentro questo contesto quella che chiamava roberto la neo istituzionalizzazione del risorgimento torna a offrire pericoli opportunità pericoli opportunità come del resto è accaduto in passato perché se è vero che gli anni passati c'era forti accenti retorici anche nei discorsi pubblici però quella alleanza tra quella fiducia forse ecco questo la parola giusta la fiducia che c'era tra le istituzioni e mondo della ricerca ha fatto sì che gianluca potesse portare i suoi studenti al vittoriano perché prima il vittoriano era chiuso l'abbiamo ascoltato ci hanno raccontato ce l'hanno detto qualcuno di noi se lo ricorda il vittoriano era chiuso e quel nesso eh quella quella alleanza se vogliamo tra le istituzioni del presidente della presidenza diciamo e quel grandissimo ricercatore studioso che era d'Alamo quella alleanza quella fiducia se vogliamo dire tra mondo istituzionale e mondo della ricerca quella fiducia ha prodotto eh un passaggio rilevantissimo forse forse anche qui sta il tema un tema fondamentale la mancanza di fiducia tra le istituzioni e la ricerca se la dico così forse si potrebbe dire in maniera più più strutturata più più articolata per esempio Marco ci diceva della della fiducia che che Cagliari ha consentito una partnership un network che prima non c'era beh una fiducia tra una dimensione istituzionale e una dimensione della ricerca propria della ricerca della ricerca appunto concreta analitica eh approfitto anche qui per dire che da poco è nato il comitato romano è rinato il comitato romano eh dell'istituto per la storia dei risorgimenti eh il giorno 21 marzo faremo la presentazione appunto al senato con la partecipazione dell'assessore alla cultura di Roma GOTOR e con istituzioni internazionali pubbliche e private e è l'idea di creare un una partnership network dove al centro rimane la dimensione associativa diceva Gianluca l'importanza della rassegna no eh i soci della rassegna e diceva Stefano questa questa i numeri della rassegna sono collegati allo sviluppo di rete associative bisogna anche qui ricongiungere rafforzare queste connessioni tra la vita associativa dei dei comitati qui in questo caso per l'istituto per la storia del risorgimento ma anche fuori diceva Marco delle possibilità di iniziative di un istituto del tessuto urbanistico come strumento no eh della possibilità di raccontare il risorgimento tant'è vero che appunto quando faremo la presentazione del comitato faremo una riflessione per esempio sulla sul monumento a Mazzini che è a Roma sulla storia del monumento a Mazzini ma appunto sempre con questa connessione con questa fiducia tra la dimensione pubblica e la dimensione privata tra la ricerca e le istituzioni se si rompe questo rapporto tra ricerca e istituzioni è difficile non solo fare eh ricerca storica in generale ma tanto più ricerca per la storia del risorgimento scusate queste piccole battute finale che servono solo a riaprire un ragionamento comune e vedremo insieme col gruppo eh di lavoro che ha sostenuto questi seminari e possibilmente anche con gli altri amici eh che ci stanno ci stanno accanto in particolare eh eh vorrei ricordare che questi interventi eh delle dei colleghi francesi tedeschi spagnoli in questi seminari sono stati preziosi e sono il frutto di una tradizione di rapporti sono il frutto di quelle alleanze di quelle di quelle connessioni di quei network eh di cui parlava Thomas che sono stati avviati ormai quasi venti anni fa e che oggi danno questi frutti di eh di partnership così così importanti. Quindi ringrazio tutti per questi incontri e speriamo di avere l'occasione di vederci in un prossimo contesto. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ciao. Grazie Andrea. Ciao.